Lifestyle Made in Italy non è soltanto informazione ma anche cinema. Grazie alla collaborazione con la piattaforma digitale ecinema.it offriamo al nostro pubblico anche la magia del grande cinema. Dai Colossa alle piccole e grandi avventure. Come? Così! Un film gratis ogni settimana scelto dai generi più diversi a partire dal 10 maggio. Come fare? Semplicissimo! Basta utilizzare il codice regalo che daremo in tutte le puntate del TG di Lifestyle Made in Italy.it visibili su Facebook e nella descrizione del video sotto il nostro canale YouTube. Oppure nella home page del sito Lifestyle Made in Italy.it Oppure sulla nostra pagina Facebook. o su streaming ecinema.it nella categoria Live Cinema. Un film a settimana gratuito a partire dal 10 maggio. Your Entertainment, Our Passion Disponibile su ecinema.it Disponibile su ecinema.it Grazie a tutti.